Il sindaco di Mazzara Nicola Cristaldi dà notizia dell'accensione di nuovi corpi illuminanti sistemati lungo il porto nuovo di Mazzara che da ieri sera sono tornati a far luce nell'importante area portuale marzarese. Dopo alcuni mesi di lavoro, ha detto l'ingegnere Giuseppe Pirrello, ingegnere capo del Genio Civile di Trapani, che ha seguito l'iter dei lavori con la collaborazione del direttore dei lavori, architetto Motisi, e con i funzionali del Genio Civile di Trapani, finalmente torna a illuminarsi l'importante porto di Mazzara. Sono stati mesi intensi, ha detto l'ingegnere Pirrello, nel corso dei quali non è mai mancata la giusta sinergia e la collaborazione tra vari enti preposti alla realizzazione dei lavori e la giunta regionale che ha finanziato i lavori. Interventi non sono ancora del tutto ultimati, ma ha concluso i responsabili del Genio Civile. L'accensione delle torri Faro è indubbiamente un ottimo segnale. I lavori, per un importo complessivo di circa un milione di euro, sono stati effettuati dalla ditta ND Costruzioni di Partinico, che si è giudicata la gara. Oltre all'installazione delle 12 torri Faro e al ripristino della pubblica illuminazione, gli interventi prevedono inoltre la creazione di isole pedonali sparti traffico con parcheggi a redi urbani. Inoltre è prevista la collocazione di alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzare sul tetto del mercato ittico, che permetterà di azzerare i costi dell'illuminazione notturna. Per garantire la sicurezza del porto è previsto anche un sistema di videosorveglianza con telecamere a raggi infrarossi che sarà collegato alle forze dell'ordine. Oltre alla pubblica illuminazione, che è tornata ad accendersi a breve, grazie a un intervento coordinato tra il dirigente Salvatore Coppolino della Polizia Municipale e il dirigente Nicola Sardo del settore lavori pubblici del Comune, la rotatoria provvisoria realizzata con i New Jersey verrà sostituita con una fissa consentendo un migliore flusso delle autovetture per l'immissione al porto o per il proseguimento lungo il litorale per Tonnarella.